Musica Oggi accanto all'ingresso dell'ospedale pediatrico Mayer di Firenze c'è un prato. Nella prossima primavera sarà così. Un family center affacciato sul parco a disposizione dei piccoli pazienti e di mamma e papà. Una porta d'ingresso per accoglierli in un ambiente più simile al salotto di casa che è un ospedale. E a dare il benvenuto sarà la pimpa con una sua area gioco e lettura per un'entrata meno traumatica tra le corsie. E lo stesso Altame, il padre della cagnolina dai pallini rossi, ad annunciare la novità grazie a un gioco di squadra con Unicop Firenze. È stata la pimpa a decidere, non io ci racconta. Io spero una buona mano perché la pimpa con i bambini ci sa fare. Spero che gli dia un messaggio di serenità perché la pimpa è aperta al mondo, non ha paura di niente. E spero che questo si trasmetta anche ai bambini. L'intervento è un tassello del progetto Mayer Più per ampliare l'ospedale pediatrico. Un piano sostenuto donico a Firenze con un milione e mezzo di euro. Due aree d'attesa, l'area della pimpa, sei servizi come l'aiuto psicologico, gli assistenti sociali e le associazioni. Sarà così il futuro family center sull'esempio di quelli che esistono in importanti ospedali internazionali. In Europa una struttura analoga si trova a Barcellona. 500 metri quadri dedicati solo all'accoglienza e alle informazioni utili per affrontare al meglio il periodo di ricovero. Nell'ambito del progetto di collaborazione con Unicop Firenze, la pimpa diventa l'amica che i bambini troveranno nel family center e che li accompagnerà in momenti di gioco e in questo periodo di attesa. Ma anche durante il periodo di ricovero può essere sicuramente un punto in cui poter tornare a giocare, a leggere, a disegnare. Il nuovo passo della collaborazione con Unicop Firenze è portare la cagnolina anche nei punti vendita a Copfi per dare una mano al mayor. Noi lo facciamo anche attraverso il coinvolgimento dei nostri soci e consumatori, quindi troveranno nello spazio del supermercato questa animazione e la possibilità di concorrere alla realizzazione di questo progetto acquistando piccoli oggetti, il libro della pimpa, la tazza con la pimpa e quindi un'operazione ancora una volta vede noi promotori di un progetto ma che mette in campo la partecipazione delle persone per una causa importante come quella dell'ospedale in Omea. La pimpa arriva quindi nei centri commerciali Copfi di Navacchio e Montevarchi fino al 12 ottobre, il 25 e 26 ottobre a Ponte a Greve e ad Arezzo, l'8 e 9 novembre a Sesto Fiorentino, mentre alle casse si può continuare a donare in favore del mayor 1 euro o 100 punti della carta socio.